Ciao a tutti, oggi prepareremo i bastoncini di pizza fritta sfiziosi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo zero, olio evo, sale, prosciutto crudo, rucola, pomodorini gialli, pomodorini rossi, bocconcini di bufala e scaglie di grana. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito ed azionare il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio ed azionare il bimbi in modalità spiga per un minuto. Aggiungere il sale ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente, lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Stendere con il mattarello formando un rettangolo, ritagliare delle strisce larghe circa 2 centimetri e trasferire su una teglia rivestita con carta da forno distanziandoli leggermente. Lasciare riposare per 45 minuti. Friggere in abbondante olio caldo fino a doratora. Abbiamo fritto i bastoncini e adesso arrotolarli nel prosciutto crudo. Abbiamo messo la rucola in un piatto da portata, adesso metteremo i pomodorini alternandoli. Condire con un po' di sale, un po' di pepe, posizionare i bastoncini, i bocconcini di bufala e le scaglie di grana. bastoncini di pizza fritta sfiziosi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.